Spara al marito e lo uccide, poi si costituisce. Il delitto è avvenuto nel pomeriggio a Lonnano, nel comune di Prato Vecchio Stia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, la donna avrebbe ucciso il marito, sessantenne, con un colpo d'arma da fuoco prima di dare l'allarme, uscire e costituirsi all'arma. Sul posto è intervenuto il 118, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Si chiamava Dino Gori e aveva 64 anni. La donna, Paola Marzenta, prima ha sparato al marito, poi ha chiamato ai soccorsi e il proprio avvocato e quindi si è costituita ai carabinieri. L'omicidio è avvenuto attorno alle 17 a Campolungo, località nel comune di Prato Vecchio Stia. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe imbracciato un fucile da caccia che era regolarmente detenuto nella casa e ha sparato uccidendo il marito per motivi che al momento rimangono sconosciuti e su cui sono in corso accertamenti. La donna è stata portata nella caserma dei carabinieri di Prato Vecchio, che mantengono lo stretto riservo. La coppia viveva nella piccola frazione montana. La donna era anche titolare di un allevamento di ovini.